Per alcuni è un criminale, per altri un eroe. L'Ambro's. Era il cinema mio e di Nicky. Era una specie di discoteca. Sa che abbiamo fatto scattare la carne. Se probabilmente mi aspetta. No, 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 no. Sì, no, no. Ok. Sì, sì. Non lo so. Vero al D? Sì. Vero al D? No. Perché? Sì, no. Sì, no. Sì, no. Sì, no. Sì, no. Salve, sono Joseph Lemato. Benvenuto a DotConnection. La mia galleria digitale di arte e musica background. Spero di piaciarti. Sono Defalp. Benvenuti alla festa. La mia galleria per Marco Osani. No. ZorConnection. P dependentre possibile per i Grazie per aver guardato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.